Quello che provo io per te, non basterebbe solo una canzone, non mi potrei confondere, ti troverai in un mare di persone. Mi chiamo Eliana e stasera sono arrivata a Sesta Classificata, ho 18 anni e vengo da San Benzana. Mi sono iscritta a Miss Italia perché mi è sempre piaciuto questo mondo e per mettermi alla prova. Martina, stasera quinta classificata, ho 22 anni domani, vengo dalla loggia, un piccolo paesino in provincia di Torino. Mi sono iscritta a Miss Italia perché è un concorso che seguo da quando sono piccola e mi sarebbe sempre piaciuto partecipare. Questa sera ho avuto l'onore di vincere la fascia quinta classificata. Erika, Miss quarta classificata, vengo da Collegno, mi sono iscritta a Miss Italia perché il mio sogno è quello di diventare una modella e sicuramente penso che questo concorso possa aiutarmi. Francesca, terza classificata, mi sono iscritta a Miss Italia perché sono un po' timida, quindi vorrei cercare un po' di vincere questa timidezza che ho. Ho 26 anni e vengo da Borgomanero. Sono Martina, stasera Miss seconda classificata, vengo da Biella e ho deciso di partecipare a Miss Italia per la seconda volta perché ho partecipato anche nel 2020 e sono arrivata a Miss Valle d'Aosta tra le 23 finaliste a Miss Italia a Roma. E sono molto felice di essere arrivata a seconda questa sera, per me è un onore e spero che ci sarà occasione di ripartecipare. La numero 23, Rebecca Arnone! Mi chiamo Rebecca Arnone e questa sera ho vinto la fascia Miss Cinema Piemonte-Valle d'Aosta. Ho 19 anni e vengo da Torino e il prossimo anno spero di fare medicina all'università. Mi sono iscritta a Miss Italia perché sin da piccola ho sempre desiderato partecipare e finalmente ho raggiunto l'età per farlo. Che prima ci allontana e poi ti porta qui da me. Annamenna Dimmelo Rocky, poeta urbano Annamenna Poeta urbano Poeta urbano Poeta urbano Poeta urbano Poeta urbano Poeta urbano